3 febbraio 1887 nasce a Roma Silvio D'Amico, il più grande teorico e critico teatrale italiano. L'Accademia, che ora porta il suo nome, ha avuto fra i suoi allievi Vittorio Gasman, Luigi Squarzina, Rossella Falca, Anna Magnani, Nino Manfredi e molti altri. D'Amico dirige la rivista italiana del dramma, dal 1945 cura anche la rubrica della RAI Chi è in scena? A lui si deve anche l'edizione di un'imponente enciclopedia dello spettacolo in 11 volumi. Muore il primo aprile 1955.